Musica Dopo tre settimane in zona rossa le marche tornano arancioni, il governatore Acquaroli raccomanda la massima attenzione, il virus continua a girare, l'occupazione delle terapie intensive è ancora alta, non si escludono provvedimenti più restrittivi nei singoli comuni. Ripartenza sotto tono e senza ristori per i commercianti che oggi hanno alzato la saracenesca, pochi clienti, tasse da pagare, danni economici ingenti. I ristori sono i punti dove tu andavi a mangiare una volta, c'era scritto ristoro sulla riviera adriatica. Il ristoro purtroppo in questo momento può essere solo quello, perché pochi migliaia di euro non vanno a coprire perdite di centinaia di migliaia di euro. Questo è un problema. Stretta di Pasqua, oltre 2000 controlli anti-covid nella provincia di Pesero Urbino, più di 100 le sanzioni elevate e 3 gli esercizi commerciali chiusi. Affano quasi tutti disciplinati, multati 27 automobilisti ma in ZTL. Cinquantenne arrestato nel giorno del suo compleanno per spaccio di droga, nascondeva ascice e cocaina nel forno a microonde sotto un tavolo della sua abitazione. Ritrovata sul letto del fiume Metauro una statua della Madonna col bambino, entrambi senza testa. La strana scoperta fatta al giorno di Pasqua da un docente di Monte Felcino. Ora si cerca il proprietario. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Le marchi oggi sono tornate in zona arancione. Il presidente Francesco Acquaroli ha lanciato un appello alla responsabilità e ha annunciato che se sarà necessario la regione interverrà comune per comune per scongiurare una nuova ondata. Da oggi l'Italia cambia ancora colore e le marche dopo tre settimane in zona rossa ritornano nella fascia meno restrittiva. Con l'arancione cambiano anche le regole a partire dagli spostamenti nel rispetto del coprifuoco. Ci si può muovere liberamente senza obbligo di autocertificazione all'interno del proprio comune. Resta la possibilità di recarsi nella seconda casa anche in un'altra regione purché non si trovi in zona rossa. I marchigiani inoltre potranno andare a trovare parenti e amici ma solo una volta al giorno. È vetato spostarsi in auto in più di tre persone che non siano conviventi. Nella parte anteriore può stare solo un guidatore e per ogni fila posteriore sono ammesse al massimo due persone. Nel fine settimana restano chiusi centri commerciali ad eccezione dei negozi che svolgono attività ritenute essenziali. Bar e ristoranti lavoreranno con l'asporto e le consegne a domicilio mentre possono riaprire i negozi, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Domani riaprono anche tutte le scuole di ogni ordine grado. La presenza sarà al 100% fino alla terza media. Stiamo andando verso la bella stagione e il piano vaccinale sta procedendo speditamente. Quindi a breve anche tutto il personale scolastico sarà vaccinato. Io sono contentissima che dal 7 aprile si riaprano le scuole, le riapriamo anche le superiori al 50%, consigliando di riaprirle al 50% con gradualità. Perché veniamo da una zona rossa e perché vogliamo veramente riaprire per poi non chiudere più. Sono contenta soprattutto per i ragazzi, per i giovani che sono stati quelli più penalizzati da questa pandemia perché infatti i danni non sono solamente fisici, i danni causati da chi contrae il virus, ma ci sono anche danni psicologici. Sulle riaperture oggi è intervenuto anche il governatore Francesco Acquaroli che ha lanciato un nuovo appello alla responsabilità. E' un piccolo passo avanti dopo un lungo periodo di pesanti restrizioni, ha scritto in un post pubblicato sul profilo Facebook. Anche in questa fase, ha proseguito, raccomando a tutti la massima attenzione perché il virus continua a girare e l'occupazione delle terapie intensive è ancora alta. Dobbiamo assolutamente scongiurare una nuova ondata. E oggi la regione ha chiesto un incontro a tutti i sindaci e alle prefetture per rafforzare la strategia comune di contrasto al virus. L'obiettivo fa sapere Acquaroli e fare il possibile per evitare di dover assumere ulteriori misure diffuse a livello provinciale o regionale. E siccome a differenza del mese di febbraio, quando non avevamo parametri di riferimento per analizzare la variante inglese, adesso possiamo comprendere il suo impatto, monitoreremo l'andamento della curva pandemica e qualora necessario interverremo anche comune per comune, cercando di bloccare sul nascere eventuali focolai per salvaguardare il più possibile sia la salute, la sicurezza dei cittadini che le attività economiche. Abbiamo un mese difficile davanti e dobbiamo tutti esserne consapevoli. Il nostro obiettivo, ha proseguito il governatore, è di arrivare bene ai mesi di maggio e giugno. Noi faremo la nostra parte, ha concluso, ma occorre la collaborazione di tutti. E sono 16 decessi legati al covid che si sono verificati nell'ultima giornata, tra cui anche un uomo di 51 anni di Cerretodesi in provincia di Ancona. Tra le vittime, anche due anziani della provincia pesarese. Si tratta di due uomini di 71 e 93 anni, rispettivamente di Cagli e Pesaro. Tra le nuove diagnosi, invece, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore sono 66, a fronte dei soli 844 tamponi processati. Inoltre, negli ospedali della regione c'è un balzo dei ricoveri, più 18 rispetto a ieri, per un totale di 924. I pazienti in terapia intensiva scendono a 141, mentre quelli in semi-intensiva salgono a 217. E la Regione Marche ha aggiornato le indicazioni operative per gestire a casa i pazienti confermati o sospetti covid-19. L'obiettivo, spiega l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, è quello di ridurre la pressione e il carico sulle strutture ospedaliere e residenziali del territorio, gestendo a casa i pazienti con forme di malattia da lievi a moderate. Pertanto, si è anche imposta la necessità di condividere un documento sulla base della letteratura scientifica, ma anche dell'esperienza clinica maturate nel corso dell'epidemia. Nella stessa direzione c'è quella di ridurre i ricoveri. Vanno anche le terapie con anticorpi monoclonali, che la Regione Marche ha adottato per prima in Italia, ha ricordato l'assessore, e che stanno riscuotendo degli ottimi risultati. E alla vigilia della ripresa delle elezioni, oggi l'assessore regionale ai trasporti, Guido Castelli, ha rivolto un appello ai ragazzi, alle famiglie e al sistema scolastico. La prima regola per evitare assembramenti, ha dichiarato l'assessore, che ciascuno adotti comportamenti appropriati. Allo Stato chiediamo più risorse per intensificare i controlli sui mezzi di trasporto pubblici, ma ciascuno deve fare la propria parte con responsabilità. Un invito a collaborare in un momento in cui cominciamo finalmente a intravedere la luce, ha aggiunto Castelli, che oggi ha incontrato le prefetture marchigiane. Il quadro che è emerso, ha riferito, è quello della validità dei protocolli adottati e perfezionati nel corso dell'anno. Un'organizzazione collaudata che rimettiamo in campo anche in questa nuova ripartenza. Ed è stata una ripartenza sotto tono, invece, quella di commercianti, che attendono ancora i ristori dallo Stato. I dettagli e le interviste nel servizio di Angelica Panzieri. Le marche tornano da oggi in zona arancione. Questa mattina anche i negozi d'abbigliamento, calzature, hanno potuto riaprire. Siamo andati a sentire com'è andata questa prima mattinata. Hanno alzato la saracinesca alle 9 di questa mattina. Riaprono i battenti, gli esercizi commerciali al dettaglio. Così anche il centro storico di Pesaro, nonostante la pioggia, oggi sembrava un po' più allegro. Un ritorno alla normalità dopo oltre un mese di chiusura, anche se la situazione, come spiegano gli stessi commercianti, non è affatto rosea. Pochi se non nulli i ristori ricevuti fino ad oggi e nessuna previsione per il futuro, se non la speranza comune a tutti di proseguire a lungo con l'apertura. Come si sapeva è un pochettino difficoltosa, perché tutto ciò che sarà il movimento lo vedremo giovedì, venerdì e sabato, per cui ancora questa mattina non possiamo capire quello che sarà l'evolversi della settimana. Comunque non è che noi siamo entrati questa mattina, abbiamo messo la chiave nella macchina, abbiamo acceso con la benzina e siamo partiti. Abbiamo dovuto mettere a posto tutto l'invernale, togliere. Abbiamo lavorato lunedì dell'Angelo, Pasqua, per togliere la merce non venduta. Come è successo già l'anno scorso, tutto ciò che era il primaverile, e quest'anno rimarrà un'altra volta il primaverile. Noi siamo l'ultimo anello della catena. La catena purtroppo è dalla distribuzione, la produzione e ciò che rimane nei magazzini dobbiamo sobbarcarci l'onere della spesa. E questo comincia a essere un problema, perché nessuno ci menziona mai in questo senso. Ma noi abbiamo delle perdite molto elevate, perché perdendo dei mesi di lavoro, ovviamente sono i mesi del primaverile, tutta la merce in stock rimane in magazzino. I ristori, pochi migliaia di euro, non vanno a coprire perdite di centinaia di migliaia di euro. Questo è un problema. Senza ristori, perché il commercialista mi ha detto che non arrivo al 30%, quella clausola che è stata messa del 30% è una cosa fatta apposta evidentemente per penalizzarci. Non capisco perché si senta gente dire abbiamo i ristori, facciamo i ristori, facciamo qui, nessuno rimarrà indietro. Eppure tantissima gente, tanti commercianti, non hanno avuto né ristori né niente. Per cui non capisco tutta questa euforia nel dire che abbiamo avuto qui, siamo stati aiutati. Adesso abbiamo avuto un mese e mezzo di fermo. Quei soldi lì non li riprendiamo più. Quindi è stato un danno economico grosso, anche perché bollette continuano ad arrivare. I pagamenti continuano a esserci lo stesso, le tasse ci sono ugualmente. Bene, finalmente, dopo un periodo di pausa, di ferie forzate, fra virgolette, però va bene, dai. E speriamo che si possa proseguire. Nessun ristoro per il 2020. Nessun ristoro. Invece nel 2021? Si spera che ci siano, ma di questo periodo mi credo, non so se va avanti così. E adesso il maltempo. Temperature in brusco calo, rovesci, diffusi e nevicate in diverse zone della nostra regione. Il maltempo, come riportato da geometeo.it, ha interessato nel pomeriggio i rilievi del centro nord fino a 300-400 metri, ma con pioggia, a missa neve, fino a quote inferiori. Ieri la protezione civile delle Marche aveva diramato un'allerta gialla, valida per l'intera giornata di oggi. Diversi video inviati dai nostri reporter di strada in tutta la provincia di Pesero-Urbino. Fiocchi e Coltrebianca, Albiato-Sante, Fratterosa, Fossombrone, Orciano, Urbino, ma anche Montecopiolo, Fonte Corniale e Carpegna. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami e piante pericolanti. Domani si avrà un ulteriore calo nei valori minimi, mentre le massime saranno il lieve aumento. Cielo, variabile con addensamenti maggiori sui settori appenninici, dove non si escludono nel pomeriggio brevi rovesci, anche nevosi, oltre i 900 millimetri. Cambiamo argomento. Durante le festività pasquali sono state multate più di 100 persone nella provincia di Pesero-Urbino per il mancato rispetto delle norme anticontagio. A Fano, invece, nonostante i tanti controlli, non è stata elevata nessuna sanzione, se non per la violazione del codice della strada. Filippo Pucci. La stretta era stata annunciata dalla prefettura di Pesero-Urbino. Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, oltre 250 uomini e donne delle forze dell'ordine sono stati impegnati nell'attività di controllo sul rispetto delle norme anticontagio. In totale sono state controllate oltre 2.000 persone, di cui 103 sanzionate e quasi 600 attività commerciali. Tre di queste sono state multate e chiuse. A Fano, come riporta l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini, i cittadini sono stati piuttosto disciplinati. Sono stati controlli numerosissimi. Abbiamo fatto un'attività coordinata a polizia locale con tutte le forze dell'ordine, guidati appunto su indicazione del prefetto e abbiamo svolto un'attività dalle 7.30 fino alle 24 di mattina per tre giorni di zona rossa con numerosissimi controlli alle persone che passeggiavano, quindi 150 persone all'incirco sono state fermate e individuate. Poco più di una settantina i controlli alle attività commerciali nei tre giorni e devo dire che registriamo con grande soddisfazione un certo orgoglio una grande responsabilità da parte dei fanesi perché comunque le persone trovate a passeggiare erano veramente pochissime tutte comunque nelle zone di loro abitazione, di residenza per cui perfettamente in regola stessa cosa per le attività commerciali. Dunque nessuna multa per il mancato rispetto delle norme anti-Covid sono state elevate invece 27 sanzioni per la violazione del codice della strada e in particolare per il transito in ZDL senza averne il permesso. Massima attenzione c'è stata per Lungomare tutto dalla Gimarra fino a Ponte Sasso e massimamente i parchi con il coinvolgimento anche della protezione civile guidata dalla polizia locale di Fano però sono state controllate anche su strada le porte principali della città alcune zone come via Pisacane via Buozzi ma comunque tutti i quartieri sono stati presidiati ed è stato sicuramente anche più semplice perché comunque la buona condotta dei fanesi non ha portato a doversi fermare particolarmente in zone di assembramento che non ci sono state. I controlli aggiunge l'assessore proseguiranno anche nei prossimi giorni Bisogna rimanere attenti questo è l'auspicio e anche la raccomandazione che mi sento di fare attraverso Fano TV i controlli saranno comunque costanti ma prendendo in considerazione il fatto che comunque siamo in zona arancione per cui ci saranno la possibilità di fare maggiori cose. Nascondeva la droga in casa e persino nella micron del 50enne che nei giorni scorsi è stato arrestato dagli agenti della polizia di Pesaro tra l'altro nel giorno del suo compleanno i particolari nel servizio di Letizia Marchionni È stato arrestato nel giorno del suo compleanno ovvero venerdì 2 aprile il 50enne che all'apparenza operaio con una vita tranquilla conduceva a una illecita attività di spaccio il 50enne della zona di Vallefoglia è stato individuato ed arrestato grazie ai controlli della polizia di Stato effettuati anche nelle zone periferiche di Pesaro Gli agenti della squadra mobile che avevano avviato un servizio di osservazione nei confronti dell'uomo nel corso dell'appostamento notando che stava per partire a bordo di uno scooter e sospettando che potesse avere con sede lo stupefacente hanno bloccato il 50enne procedendo al controllo la perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione dove all'interno di un forno a microonde è stato trovato un barattolo contenente due involucri uno con 10 grammi circa di cocaina e l'altro con 15 grammi di hashish è stato poi recuperato dagli agenti anche un barattolo più grosso nascosto sotto un tavolo anche questo contenente due involucri uno con 57 grammi circa di cocaina e l'altro con 105 grammi di hashish la perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire il materiale per il confezionamento delle dosi fra cui un bilancino di precisione e la somma di 500 euro in contanti ritenuta essere il provento dello spaccio l'uomo è stato tratto in arresto ed è stato associato al carcere di Villa Fastigi ieri mattina l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria cibo per i bisognosi gettato nella spazzatura a denunciarlo è una nostra telespettatrice che ci ha inviato queste fotografie scattate in via Nino Bixio a Fano la strada che costeggia l'ex caserma Paolini oltre ai sacchetti di plastica lasciati a terra tra i cassonetti dell'immondizia ci sono anche diversi pacchi di riso ancora sigillati quindi pieni ma scaduti come potete vedere si tratta di prodotti alimentari dell'Unione Europea destinati agli indigenti ma non utilizzati e poi abbandonati poco distante invece ai passeggi di Fano una mamma ha girato questo video per mostrarci la sporcizia e la distesa di cicche di sigarette gettate a terra ridosso delle panchine questa ci ha scritto la reporter di strada è la situazione che noi genitori troviamo quando portiamo i bambini a giocare qui sostano in particolare gruppi di stranieri che banchettano senza alcuna primura dei distanziamenti delle norme anti-covid e non ci sono controlli aggiunto da parte delle forze dell'ordine degrado anche a pesaro dove un telespettatore lamenta la sporcizia e i rifiuti anche qui gettati a terra fuori dal centro commerciale per cop giornalmente ha scritto alla nostra redazione ci sono persone che creano assembramenti subriacano vista l'assenza di appositi cestini queste persone gettano i rifiuti a terra oppure nella ruola sottostante il centro commerciale mancano sia rispetto civico sia quello ambientale e adesso vi raccontiamo di un ritrovamento curioso perché nel giorno di Pasqua un docente ha ritrovato una statua raffigurante la Madonna con il bambino entrambi senza testa lungo il letto del fiume Metauro il professore dopo aver esporto giustamente denuncia gli organi completenti oggi lancia un appello su Fano TV chiunque avesse notizie contatti ha detto la proloco di Montemaggiore è stato un ritrovamento che ha lasciato dubbi e stupore in primis a Luigi Curzi docente di matematica e scienza la scuola media di Monte Felcino che due giorni fa per caso ha visto questa statua lungo il letto del fiume Metauro tra via dei laghi e la zona di Casina a Calcinelli il professore laureato in geologia frequenta spesso quel luogo perché va anche alla ricerca di pesci fossili contenuti nelle rocce e a Pasqua la scoperta l'ha fatta ma un po' diversa durante una delle mie passeggiate al fiume Metauro e io sono anche un vecchio pescatore del Metauro e quindi ogni tanto così vado in giro giù quel fiume a vedere i posti eccetera eccetera e allora la mattina sono andato lì di sotto la chiusa di Calcinelli circa un chilometro a valle e ho trovato sul greto del fiume questa statua e in che condizioni era? era sdraiata sul greto del fiume sopra c'era un po' di ghiaia l'ho messa in piedi e gli ho fatto la foto purtroppo però ho notato subito che mancavano ai due soggetti sia alla Madonna che al bambino tutti e due gli mancava la testa e poi che cosa ha fatto? a chi ha contattato? no niente di che ho chiesto ad alcuni amici ad alcuni colleghi di Calcinelli se questa statuetta potesse derivare da qualche edicola votiva che c'era lì in riva al fiume che qualche piena potesse aver portato via ma mi hanno detto tutti che edicole di questo tipo non c'erano in quella zona e quindi non sapendo che cosa fare ho fatto la denuncia ai beni culturali e ai carabinieri per vedere se risulta dal loro database delle opere rubate però è una statuetta degli anni 70 ecco degli anni 70 perché avete ritrovato un nome su questa statua? abbiamo ritrovato sotto la statua c'è il nome della ditta che l'ha fabbricata tra l'altro la ditta esiste ancora e ce l'hanno ancora in catalogo questa statuetta Luigi si è confrontato anche con la collega Irene Cecchi esperta di beni culturali ma al momento non si hanno ulteriori informazioni comunque pare che non ci siano dei segni di trascinamento anche lungo lungo il fiume no infatti la statua è molto ben conservata era un po' sporca di ghiaia di fango da una parte però pare che non sia stata trascinata cioè che non abbia subito il trascinamento tipico e quindi l'arrotondamento tipico è una statua fatta di marmo ricostituito cioè polvere di marmo con resino con cemento quindi abbastanza dura però il trascinamento lungo il greto del fiume da una piena qualche segno doveva averlo lasciato quindi si pensa si ipotizza un trafugamento non lo so non ne ho idea io penso che qualcuno l'abbia rubata e poi deturpata non so per quale motivo comunque chiunque potesse avere delle informazioni può contattare direttamente la Proloco? si può contattare direttamente la Proloco io se qualcuno ha notizie se qualcuno è il proprietario se qualcuno rivendica la proprietà la statua ce l'ho io è a disposizione per la restituzione non c'è problema e oggi la giunta regionale ha reso possibile una nuova opportunità da anni ferma per gli imprenditori della pesca che potranno aprire attività di ricezione e somministrazione per promuovere il prodotto ittico e far vivere un'esperienza gastronomica ai turisti lo ha annunciato l'assessore alla pesca Mirko Carloni dopo l'approvazione della delibera attuativa il mio auspicio ha detto Carloni che possono aprire nuove attività e di conseguenza ci siano nuovi posti di lavoro subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Guarda chi c'è condotta da Paolo Notari l'ospite sarà Carla Latini imprenditrice del settore gastronomico grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci